Il Vitalica Sporting Center apre le porte ai bambini delle famiglie in difficoltà economica. Il centro sportivo di Via Nuova Lavorate a Sarno ha aderito infatti al progetto CONI Ragazzi che riguarda bambini di età compresa tra i 5 e i 13 anni e che coinvolge anche quelli dei comuni dell'agro sarnese Nocerino. I bambini che vorranno praticare attività fisica potranno dunque farlo gratuitamente anche al Vitalica Sporting Center. I genitori dei piccoli dovranno portare il proprio modello ISEE ed essere residenti nei comuni di Cava dei Tirreni, Nocera Superiore o Sarno. Le iscrizioni sono già aperte e si chiuderanno alle ore 15 del prossimo 20 gennaio. Sarà il CONI a stabilire successivamente chi ha effettivamente i requisiti necessari per partecipare. I bambini che verranno inseriti nel progetto potranno svolgere al Vitalica Sporting Center attività motoria di base, calcio a 5 oppure nuoto due volte alla settimana per 19 settimane. Il progetto è il frutto di un accordo tra Presidenza del Consiglio dei Ministri, Ministero della Salute e CONI e ambisce a far sì che lo sport sia un diritto per tutti. Gli obiettivi sono chiari, incoraggiare i bambini a svolgere attività fisica, promuovendo l'acquisizione di corretti stili di vita e salutari, contrastando quindi l'obesità infantile, uno dei problemi più gravi di oggi. Promuovendo poi i valori dello sport sano, quali lo spirito di gruppo, l'inclusione sociale, supportando quelle famiglie che versano in difficili condizioni economiche e che non possono quindi sostenere i costi dell'attività sportiva extrascolastica per i propri figli.